E qui c'è nel nostro appuntamento con FAI Le Dolomiti in collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano Delegazione di Belluno il piacere di ritrovare negli studi della nostra emittente Laura Fregone che è segretaria del FAI Ben trovata Laura Buongiorno a voi Allora, oggi ci dedichiamo a questo importante riconoscimento che è avvenuto per le nostre meravigliose Dolomiti quali patrimonio dell'UNESCO il 26 giugno del 2009 Allora, spieghiamo un pochino cosa vuol dire UNESCO Allora, innanzitutto l'UNESCO è un'istituzione che fa parte dell'ONU, ossia l'Organizzazione delle Nazioni Unite All'interno di questa organizzazione che ha ordine mondiale ci sono determinate istituzioni che si occupano di economia, società, cultura L'UNESCO appunto fa parte di questa istituzione e si occupa specificatamente della scienza, dell'educazione e della cultura È stata istituita il 4 novembre del 46 a Parigi Attualmente dell'UNESCO fanno parte 195 stati membri La missione appunto, come dicevo, principale dell'UNESCO è quella di contribuire alla costruzione della pace All'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e al dialogo interculturale attraverso l'educazione, le scienze, la cultura, la comunicazione e l'informazione L'UNESCO poi ha diverse priorità e una serie di obiettivi generali Le priorità principali riguardano lo sviluppo dell'Africa e quindi l'evoluzione di questo continente E la parità tra uomo e donna Dal punto di vista degli obiettivi generali Vi è inoltre la volontà di un raggiungimento di un'istruzione di qualità per tutti e l'apprendimento permanente L'incentivazione di uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico che sociale E la promozione di diversità culturali e di un dialogo interculturale per portare a livello mondiale una cultura della pace Oltre a questo l'UNESCO si occupa anche di tutelare, di promuovere siti patrimonio dell'umanità Inserendo all'interno della World Heritage List siti che culturalmente dal punto di vista naturalistico hanno una certa rilevanza Premetto che per entrare in lista UNESCO non è che l'UNESCO scelga da sola i siti da inserire Ma ogni stato membro decide tramite una candidatura e tramite studi approfonditi Quali siti proporre e semmai includere all'interno della lista Attualmente i siti sono 981 e sono siti appartenenti a 160 paesi Tra questi bisogna distinguere 759 siti culturali, 193 siti naturali e 29 siti misti Misti vuol dire un ibrido tra sito culturale e sito naturale L'Italia in tutto questo svetta in quanto è il primo posto con la presenza di oltre 49 siti UNESCO Per quanto riguarda poi i siti dal punto di vista alpino Le Alpi ospitano ben 17 siti patrimonio mondiale dell'umanità che sono divisi tra Italia, Germania, Svizzera ed Austria E tra questi 17 tre sono transfrontalieri Cosa vuol dire? Vuol dire che sono siti che in parte sono in uno stato e in parte sono in un altro stato Di questi 17, 4 sono i siti che sono stati riconosciuti con il criterio di patrimonio naturale E sono lo Swiss Alps Jungfrau Ales in Svizzera Che ricordo è l'unico sito alpino riconosciuto con parte dei criteri riconosciuti dalle Dolomiti Il Monte San Giorgio, lo Swiss Tectonic Areas della Sardona e appunto le nostre Dolomiti Come ben diceva le Dolomiti sono state incluse nella lista il 26 giugno del 2009 E per essere incluse hanno dovuto rispondere a due criteri di selezione Il criterio 7 e il criterio 8 Il criterio 7 significa che le Dolomiti rappresentano fenomeni naturali eccezionali E aree di eccezionale bellezza naturale ed importanza estetica Mentre il criterio 8 significa che le Dolomiti sono una testimonianza straordinaria Dei principali periodi dell'evoluzione della Terra Le Dolomiti però non sono tutte UNESCO quindi non possiamo dire che tutte le Dolomiti Fanno parte di questo riconosciuto Ma sono stati selezionati 9 sistemi che si stendono su 142.000 ettari E interessano 5 province Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine All'interno di questi 9 sistemi si parlano 4 lingue Italiano, Tedesco, Ladino e Friulano Bisogna inoltre specificare che ogni sistema è diviso in due parti Una Core Zone, ossia una zona cuore E una Buffer Zone, ossia una zona tampone Questo vuol dire che la zona cuore è la zona più integra La zona più preziosa del sito UNESCO E poi attorno c'è una zona tampone che è una zona che ha subito Dei cambiamenti Dei cambiamenti Esattamente, delle modifiche antropiche da parte dell'uomo Oltre a questo le dolomiti sono state riconoscite UNESCO anche per diversi valori I primi tra tutti il paesaggio In quanto presentano ampi basamenti ondulati Imponenti mantelli detritici che avvolgono la base degli edifici carbonatici E forti contrasti di colore Penso alla rossadira, quel fenomeno che avviene all'alba del tramonto In cui le dolomiti stinguono di rosa Esattamente Cambiano colore, vedi che hanno un fascino particolare Esattamente Inoltre, una cosa che è stata uno dei punti forti per la vincita della candidatura Il riconoscimento Esatto Sono le grandi masse rocciose perfettamente verticali Quindi la verticalità delle pareti dolomitiche è stato un elemento molto importante per il riconoscimento Oltre a questo sono molto importanti anche dal punto di vista geomorfologico In quanto sono di rilievo internazionale Essendo il sito classico dello sviluppo delle montagne in rocce dolomitiche Inoltre sono molto importanti poiché sono Montagne che presentano piattaforme carbonatiche del mesozoico e atolli fossili Quindi sono molto importanti anche per questo motivo Ultima cosa per cui sono importanti come valore riguarda la serialità Cosa vuol dire? Le dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano sì come un sistema unitario Però ogni sistema ha le proprie caratteristiche ben specifiche Alcune vette però non sono state incluse all'interno dei nuovi sistemi Nonostante avessero delle caratteristiche molto preziose e molto rilevanti Poiché il vincolo che ha messo l'UNESCO è che le aree da inserire in lista fossero precedentemente aree tutelate Tramite parco, tramite forme in forma di aree protette Per questo motivo il gruppo del Selle e del Sassolungo non rientrano esattamente all'interno per questo motivo C'è però da fare un appunto per quanto riguarda la marmolada La marmolada vedendola dal punto di vista geomorfologico e geologico È stata troppo importante all'epoca per poter essere esclusa nonostante presenti impianti scistici di risalita E quindi secondo i canoni UNESCO non poteva rientrare all'interno di un sistema Però è troppo importante poiché rappresenta il prototipo del paesaggio dolomitico Quindi la marmolada è una montagna unica nel suo genere È il prototipo e quindi si è deciso di includere perché è troppo importante Per quanto riguarda poi il titolo UNESCO È molto importante capire come utilizzare il titolo UNESCO per portare turismo E per portare ricchezza al territorio che ospitano questo titolo L'UNESCO per quanto riguarda il turismo ha detto Cito testuali parole della convenzione Che venga sviluppata una strategia complessiva per il turismo e l'utilizzo da parte dei visitatori Estesa tutta l'area del bene Quindi questo vuol dire che vi deve essere un sviluppo turistico collettivo Effettuato dalle cinque province esteso a tutti i nove sistemi Inoltre bisogna tenere conto del flusso di visitatori all'interno del bene Poiché bisogna gestire questo flusso di visitatori In modo tale da conservare l'integrità del bene il più lungo possibile Si è notato poi che nelle aree riconosciute UNESCO Sia culturali che naturalistiche L'incremento medio del turismo è stato del 40% Quindi vi è un aumento significativo Poiché virtualmente un sito UNESCO ha rilevanza mondiale Essendo incluso all'interno del sito web dell'ONU Nel sito web dell'UNESCO C'è una maggiore Si viene evidenziato maggiormente il nostro territorio Esatto Virtualmente noi siamo raggiungibili via telematica Se vogliamo mettere così Da tutto il mondo Quindi bisogna appunto stare attenti A il tipo di turismo che vogliamo effettuare in Dolomiti Poiché io faccio sempre l'esempio Di un bene naturalistico, di un bene culturale Compar sempre la torre di Pisa Che è un bene culturale A il pelmo Che in questo caso è incluso nell'UNESCO Come bene naturalistico La torre di Pisa per quanto possa essere Deteriorata dal calpestiere visitatori Può comunque venire restaurata Il pelmo una volta che viene deteriorato Da un afflusso turistico incontrollato È perso Quindi dobbiamo stare ben attenti A capire come dobbiamo conservare questo patrimonio E che tipo di turismo E quanti visitatori vogliamo avere Certo Oltre a questo poi bisogna stare attenti Anche ai progetti e ai piani Di sviluppo turistico economico Che vogliamo portare in provincia E specialmente nelle zone o a ridosso delle zone UNESCO Un rischio maggiore è che perdiamo il titolo UNESCO Se facciamo progetti che vanno contro i principi di sostenibilità E di basso impatto ambientale che l'UNESCO ha stabilito Un esempio che dovrebbe farci scuola È l'esempio del fiume Elba A Dresda In questo luogo Nel 2009 Quando noi ottenevamo riconoscimento Questo luogo si vedeva revocare il titolo Perché? Perché tramite un referendum popolare Si è deciso di costruire un ponte Per collegare le due parti del fiume Questo andava contro i principi di sostenibilità E l'UNESCO non si è fatta troppi problemi E ha tolto il riconoscimento Quindi questo per sottolineare appunto Quanto attenzione dobbiamo porre Alla tutela e ai piani di sviluppo Che andiamo a creare in questa zona Però c'è anche da dire Che non è che dobbiamo considerare l'UNESCO La zona UNESCO una zona intoccabile Perché rischieremo di proteggere questi nuovi sistemi E di antropizzare e di sfruttare massivamente Le zone fuori i nuovi sistemi UNESCO Esatto Quindi la chiave sarebbe quella di trovare un equilibrio Tra tutela ambientale e sviluppo Il famoso sviluppo sostenibile di cui tanto si parla Per concludere poi volevo fare un plauso Un complimento ai bellunesi Perché se le dolomiti sono state incluse Nella lista dei beni patrimoni dell'umanità È anche merito vostro Poiché è grazie alla gente di montagna Che durante i secoli ha abitato questi luoghi Che ha contribuito al mantenimento dell'ambiente Tramite l'agricoltura, lo sfalcio, l'allevamento È tramite anche questi contributi Se le montagne e se le vallate sono rimaste così E se sono diventate bene dell'UNESCO Quindi cari bellunesi anche voi siete un po' Un pezzetto di merito ve lo dovete prendere Invece la presidenza mi sembra è passata da Belluno a Bolzano Anche se la sede mi sembra è rimasta a Cortina d'Ampezzo A Cortina d'Ampezzo All'interno dell'appuntamento della FAI di Laura Fregona Che ci ha dato così una bella chiave di lettura di questo riconoscimento Cerchiamo di avvicinarci un po' di più magari A scoprire questi siti che fanno parte dell'UNESCO Ma soprattutto a scoprire anche quello che di bello abbiamo sotto gli occhi E che gli altri ci hanno riconosciuto Laura ti ringrazio per la presenza in studio Grazie a voi Con la nostra trasmissione Insieme alla delegazione di Belluno del Fondo per l'Ambiente Italiano Ci ritroviamo la prossima settimana